Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento settimanale con le vicende della palla spicchi bergamasca, ormai i campionati sono entrati a pieno regime in vigore e purtroppo abbiamo dovuto ancora una serie di risultati altalenanti da parte delle squadre nostre più rappresentative, stiamo parlando di quelle che partecipano ai campionati nazionali. Introduciamo innanzitutto il nostro ospite graditissimo odierno che è una vecchia conoscenza, capitano da quest'anno Andrea Pecchia della Remer Blubasche 1971 Treviglio, con lui vedremo un po' di analizzare la situazione dopo due giornate della compagine trevigliese, ricordiamo che è tornata tante pacche sulle spalle ma senza punti dalla trasferta di Capodorlando. Prima dalla trasmissione cambiavamo due parole con Andrea e obiettivamente la considerazione era stata si poteva fare. Sì, si poteva fare, è stato un peccato perché è stata una partita un po' strana, una partita difficile perché comunque il campo di Capodorlando non è un campo facile. Noi abbiamo giocato senza, eravamo senza Chris, senza Chris Roberts, uno dei nostri due americani e per gran parte della partita anche senza Jamal perché è stato limitato dai falli. Si, dobbiamo dire che è nato proprio in striscia, uno, due, tre, quattro, cinque, non è che non sia limitato, è stato costante nella partita. Sì, e niente, quindi abbiamo provato a portarla fino a vincere questa partita che ci si è riuscita a portare a supplementare dopo che c'era scappata via nel quarto quarto. Sembrava andata a quel momento. Sì, sì, sembrava andata, una partita appunto a punto. Siete stati bravi a tornare sotto, riprenderla? Siete stati bravi a tornare sotto, riprenderla e poi nel supplementare non abbiamo avuto la lucidità giusta per riuscire a portare a casa la partita. Dalle immagini venendo non sembra che ci fosse tantissima gente, è sbaglio. No, invece, non era pienone, però ce n'era. Però si sentiva. Sì, perché comunque va basso in atto. Diciamo che magari probabilmente si vede soltanto la tribuna a fronte, le telecamere, magari era un pochino più ammassata dietro. Sì, 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 no, no, devo dire che c'era. Si facevano sentire. Due settimane non facilissime. Due settimane non facilissime, sì. Diciamo che è un po' dall'inizio della pre-season che abbiamo avuto qualche difficoltà ad allenarci tutti insieme per dei problemi che ha avuto Jamal, per dei problemi che ha avuto Jacopo Borra, qualche piccolo infortunio che ha avuto anche Frasso, Frassinetti, che non ci ha permesso di allenarci tutti insieme. Adesso stiamo cercando di continuare ad allenarci con continuità. sono due settimane che comunque ci alleniamo, continuiamo ad allenarci e secondo me questa partita di Capodorlando ci sono stati dei grandi passi in avanti rispetto alla prima partita contro Legnano in casa. Ecco, obiettivamente Legnano, poi magari settimana prossima ci smentirà sul campo facendo un partitone, come si dice dalla miseria, a Bergamo non era sembrata sinceramente uno squadrone. Volendo fare un pochino il bilancio sembrava che alla fine della partita sembravano un pochino più i vostri demeriti che non i meriti di Legnano. Sì, sono d'accordo perché potevamo vincere sicuramente la prima partita con Legnano, come potevamo vincere questo con Capodorlando. È stata la prima partita, la prima partita è sempre difficile da interpretare. Abbiamo giocato in casa, abbiamo provato a vincerla, non ci siamo riusciti. Quindi, come hai detto tu, anche per nostre colpe abbiamo fatto fatica sia in attacco che in difesa su cose che avevamo preparato e ripreparato durante la settimana, su cose nostre, cose preparate che non si è riusciti appunto a mettere in campo. Obiettivamente bisogna riconoscere che Jamal arriva da un infortunio, lo si sapeva, detto volgarmente è giusto per non andare a freare i gradi, se non fosse riduce da un infortunio non sarebbe qua Treviglio, perché un giocatore, volgarmente parlando, dà un ingaggio superiore a quelle che sono le possibilità, con tutto il rispetto della formazione trevigliese, sta recuperando, ma è logico che questi tipi di infortuni non li recuperi come la classica scavigliata, detto come siamo abituati a ragionare. È un infortunio a ginocchio, ha cominciato a lavorare bene tutto agosto, è stato come voi, però non si può pretendere del pronti via. Purtroppo c'è da dire che per cause tra virgolette proprie in casa con Legnano, per l'assenza di, vi è marcato il secondo americano, perché Chris Roberts nella prima partita obiettivamente non ha fatto granché, non ha fatto tra virgolette un americano, poi si è fatto male, questa distrazione sono arrivato alla coscia, giusto? Sì. È di terzo grado, se non mi ricordo male. Non lo so. Comunque era una gara del Geku. Quei è un problema muscolare che gli ha impedito di partecipare alla gara. Allora, avete giocato in pratica con mezzo americano. Sì, con mezzo americano. In A2 non è una cosa che si può concedere così facilmente. Sì, come ti ho detto, è stato limitato dai falli, perché sennò ci avrebbe dato sicuramente una grossa mano, perché ci sta riprendendo anche Jamal, non è facile dopo un infortunio di quel genere, comunque. E niente, comunque nonostante tutto, quello che mi è piaciuto della squadra, quello che ci è piaciuto, possiamo uscire nella testa alta, perché comunque noi, nonostante questi piccoli problemi, queste assenze, abbiamo buttato tutto quello che avevamo in campo e siamo riusciti a tenere la partita fino al quarto quarto, rischiare di vincerla e poi perdere appunto al supplementare. E poi ricordiamoci che purtroppo la paracanestro quando si arriva in un equilibrio di quel genere diventa, sottolineo ancora, purtroppo o per fortuna, uno sport di episodi. Episodi, sì. Quindi può andarti bene, come non può però neanche non andarti bene. Adesso arriva la trasferta, un'altra trasferta ancora al sud, lunga, si va a Scafati, Scafati che dopo aver ciccato la partita in casa con Bergamo si è subito riscattata, è andata a vincere a Legnano, ha vinto anche bene con autorità, non ha nulla da dire e quindi vorrà sicuramente riscattarsi di fronte al pubblico amico. Ricordiamo la prima giornata con Bergamo non c'era tantissima gente, vediamo se ci sarà un pochino più di fattore pubblico in quella del Panamangano, però anche una trasferta di quelle difficili. Sì, 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 sicuramente una trasferta difficile. Scafati, Scafati, se tu vai a leggere semplicemente il roster ha dei giocatori molto forti partendo dagli americani, da Aaron Thomas a Goodwin, Nazarene italiano, Tommasini, comunque ha dei giocatori sia americani che italiani forti ed esperti. Noi adesso iniziamo come ogni settimana a preparare la partita partendo dalla difesa e poi passando all'attacco e ovviamente andiamo lì per provare a vincere, per provare a trovare i primi due punti del campionato. Neanche a farlo opposto poi arriva proprio un momento in cui avrete tre partite in dieci giorni più o meno, perché poi avrete l'infrasettivonale, il Berby in casa con Bergamo e poi sarete ancora in trasferta se non ricordo male a Biella. Quindi un bel trittico di partite, obiettivamente non c'è la certezza che Chris Roberts possa recuperare anche perché giustamente non si può rischiare un giocatore che da contrattura poi diventi tra virgolette strappo o per non dire altro. Siamo ancora all'inizio del campionato, per giocare una partita non si può compromettere quello che poi può essere il prosieguo e quindi vedremo poi già, penso che è possibile che ci sia a Scafati, Chris, vedremo se potrà essere delle partite due, due partite successive. Però mettiamolo con un bel punto di domanda. Un bel pro cammino. Beh, sicuramente non è facile perché comunque adesso torniamo a una trasferta impegnativa come quella di Capodorlando. Andiamo a fare un'altra trasferta a Scafati, dopo di che ritorni lunedì e giovedì. Subito preparata la partita. Con Bergamo che comunque non è una partita qualsiasi, non è una partita normale. Non è una partita qualsiasi è il derby per eccellenza, diciamo. Soprattutto per il volo. Magari non tantissimo per voi giocatori, ma soprattutto per l'ambiente. Sì, per l'ambiente che si creava, però comunque si fa sentire. Sicuramente, ve lo trasmette sicuramente. Magari per voi direttamente magari non è più di tanto un derby. Ognuno di voi ha una storia diversa. Per te il derby magari è qualcos'altro. Tu che sei Olimpia-Milano era qualcos'altro. Però obiettivamente l'ambiente attorno lo sentite anche voi. Sì, sì, quello sicuro. Il palazzetto pieno comunque. Le due tifoserie. Ma si viene a creare anche qualcosa in campo, secondo me, di diverso quando c'è una partita del genere. E poi un'altra trasfertina bella. Posso permettermi? Certo. È più bella? Sì, molto più bella. Sicuramente. Si vive? Sì, sì, sì. Tutte le partite sono belle, però giocare quelle partite c'è qualcosa in più. Sì, sì, c'è qualcosa in più nell'area. Anche per un giocatore che non è trevigliese, che non è venuto su, che non è tra virgolette di Bergamo. Però è una cosa che si percepisce. Sì, sì, si sente subito. Già come con Legnano comunque si sente. Qualcosina c'è. Sì, secondo me con Bergamo ancora di più. Non l'ho mai provato. Lo proverò a giudizio, non questo del prossimo e vedremo. Però si sente, come si dice. Sì. Che dire, Hato. Un'impressione invece che hai del contesto del campionato? Mentre chiedo cortesemente alla regia sinceramente i risultati di questo turno e la classifica. Allora, un campionato mi sembra abbastanza equilibrato per ora. Sinceramente sono rimasto sorpreso. Bergamo ha meritato di vincere la partita della Virtus Roma. Sinceramente nessuno di noi, anche solo alla fine del primo tempo, nessuno pensava che potesse finire a questa maniera. Questo risultato, visti i giocatori, il calibro di quella squadra. Perché si vista Roma veramente scivolare verso un non diciamo cosa. Ha fatto i Roderick e l'altro americano che sinceramente mi ha fatto una partita straordinaria. Non togliere nulla, togliere la Bergamo che è assolutamente strameritato. Però obiettivamente l'8159 è al di fuori di quello che è la, come si può dire, l'usualità. Questo possiamo dire. Un altro particolare che mi sorprende è se guardi là sotto Tortona. Tortona 0, sì, Tortona... Obiettivamente nessuno lo sopeva. Se Cassino si poteva pensare, potrebbe essere ben entiate, Treviglio abbiamo visto un po'. Rieti, anche lei, mi sembra di poterla paragonare un po' a Treviglio come tipo di problematiche, tipo di squadra. Sì, sì, ricerca. Alla ricerca ancora un po' di tutto. Ma secondo me anche Tortona, perché Tortona hanno avuto anche loro, da quello che so, dei problemi fisici con diversi giocatori e quindi stanno trovando anche la giusta chimia perché obiettivamente anche Tortona ha dei signori giocatori. E diciamo una classifica un po' strana. Ancora da vedere, ovviamente è la seconda giornata. Ancora due giornate sarebbe un pochino folle pensare di dare un giro. Però obiettivamente vedere quel Tortona in fondo sorprende, questo non possiamo dire di no. Sì, sì, sì. Era, possiamo dire, la favorita numero uno. Forse ancora di più della Virtus Roma. Virtus Roma, che poi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, con il nostro ospite, la B14, ha fatto un'impressione abbastanza strana, dobbiamo dirlo. Nel primo tempo, obiettivamente, Simms ha fatto veramente l'impressione come centro veramente di Serie A. Nel secondo tempo, tutto l'entourage romano ha sembrato, non si è capito se è rimasto sorpreso, scosso o incredulo, ma si sono afflosciati in maniera anche, tra virgolette, preoccupante per una squadra come di questo genere. Sì, sono d'accordo. Perché non, ripeto, ci stava assolutamente di perdere, Bergamo ha fatto tutto quanto era giusto fare per vincere, non ci può, non ha vittoria, non ha vittoria. Infatti, senza nulla togliere Bergamo, assolutamente, non ha giocato una partita straordinaria. Non ha vittoria, però, da un altro punto di vista, dà la virtù, ma ci si aspettava qualcosa di un pochino più di solidità, sia tecnica che mentale. Invece, mi sembra, la cosa è stata una brutta impressione. Adesso richiamo di nuovo la regia, quella che è la nostra piccola rubrica settimanale dei top e flop, che tanti amici ci farà, come sempre. E quindi ringrazio il nostro regista. E allora andiamo subito con i top. E in testa devo mettere Kadim Fall, protagonista del successo del Clalternally Zalmine nel derby contro Gorle. A prescindere dai punti, vedere 9 stoppate, 10 recuperi, non è proprio da tutti quanti. Poi, Taylor, Brandon Taylor, è stato il playmaker. Zero punti nel primo tempo, 20 nel secondo, ha spaccato, possiamo dirlo, la partita. Aveva di fronte anche un giocatore di A1, come Nick Moore, e obiettivamente nel secondo tempo ha fatto veramente bene. Se devo dare invece il premio alla giocata della settimana, non posso dimenticare, penso che la registri anche tu, quella schiacciata sul rimbalzo d'attacco di Roderick, che è stata veramente una chicca. Non da tutti, ecco, chiunque gioca a basket, capisce che non è una cosa che si fa proprio così ogni secondo, ogni momento, a maggior ragione in partita, perché magari in allenamento si riescono anche a fare un pochino più facile, ma in partita farla non è. E poi invece c'è una conferma, ed è Lorenzo De Leidi, il playguardia dell'Evoluto Romano Basket, che si è confermato ancora su ottimi livelli. Due conferme purtroppo invece nei flop, e si tratta di Cristiano Masper, classe 73, uno sicuramente dei giocatori più rappresentativi della pallacanestra bergamasca, purtroppo nel derby è incappato in due falli antisportivi consecutivi, che l'hanno fatto uscire dal campo all'inizio ripresa. Non ha ancora ingranato, ma sappiamo benissimo qual è l'esperienza e la serietà di Cristiano. Ha ciccato invece di nuovo ancora la partita anche la britannica di scuola, la cestistica americana della Fassi Gru e del Vice Albino, Chantel Presley. Uno su dieci dal campo, sinceramente un po' troppo poco per la formazione seriana, che è andata a perdere un altro match in trasferta. Era ospite di un'altra matricola, la Libertas Moncariere, ma obiettivamente non ha mai dato l'impressione di poter essere in partita. Dobbiamo mettere invece, dopo il buonissimo esordio, due partite, la seconda negativa per Eugenio Boccafurni, che ha perso completamente la mano da fuori. E anche in questa occasione è finito con un magro uno su undici, che non ha contribuito a quello che poteva essere il primo successo della formazione della Bluorobica Bergamo in casa contro la Libertas Cersnosco. Siamo così in chiusura della prima parte della nostra trasmissione, diamo quindi la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria. Seconda parte della trasmissione e, come di consueto, andiamo all'altra parte, fortunatamente, della A2 Bergamasca. Stiamo parlando della Bergamo Basca 2014. Avevamo già introdotto la bellissima affermazione casalinga nel lancio e match contro la Virtus.Roma. 8-1 a 5-9 per la formazione allenata da Sandro dell'A2. Oggi, non è che farlo opposto, abbiamo i due capitani delle squadre Bergamasche. Dopo Andrea Pecchia abbiamo Luigi Sergio. Luigi, mi senti? Sì, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo detto che abbiamo i due capitani, Andrea Pecchia e Luigi Sergio, quindi possiamo andare tranquilli su tutte e due le squadre. Luigi, nella prima parte della trasmissione mi sono sbilanciato dicendo che ci si poteva aspettare di vincere, ma così si è andati oltre ogni più rosa aspettativa. Sei d'accordo? Sì, sicuramente si voleva continuare quello che è stato l'ottimo esordio a Scafati, si voleva continuare a fare bene e quindi provare a fare risultato anche contro Roma, che sicuramente sulla carta è una delle squadre più attrezzate del campionato. Per fortuna, insomma, al terzo quarto la gara si è messa molto a nostro favore e poi si è creato un margine di vantaggio importante che ci ha portato fino alla vittoria finale. Io ho voluto sottolineare un aspetto della gara, che magari a qualcuno non ha considerato, ma secondo me è stato importante. Aver finito 39 pari con due soli punti dei vostri americani, per di più proprio all'ultimo secondo del primo quarto, secondo me è stata una svolta della gara. Sì, vabbè, sicuramente il contributo sia di Terence che di Brandon è importantissimo e non è solo dal punto di vista realizzativo, ma sicuramente si prodigono molto per il gioco di squadra e cercano di coinvolgere tutti. Quindi questa è sicuramente una cosa che ci avvantaggia tutti e probabilmente ci permette di giocare meglio e di dare meno punti di riferimento agli avversari. Rispetto all'anno scorso, con i due americani come Taylor e Roderick, se dico che aprono molto più di più il campo per voi, dico una cosa giusta? Non ho capito, scusami. Con i due americani... Con i due americani che aprono il campo così facilmente, con tanta bravura, non è un compito molto più facile per voi sul perimetro? Sì, il fatto comunque che abbiamo... Siano due esterni che comunque gestiscono molto la palla e che sappiano sia tirare da fuori che comunque attaccare bene il ferro, sicuramente ci aiuta a creare una mole di gioco più importante e quindi poi dopo ad essere tutti coinvolti sugli scarichi e sulle altre situazioni di gioco. Ecco, un altro dato tecnico, secondo me, della partita è stata l'adattamento difensivo nel secondo tempo su Sims. Sims, obiettivamente, nei primi 20 minuti è stato un fattore dentro l'area. Sì, sapevamo che comunque la parte più difficile della partita sarebbe stata proprio quella della lotta sotto canestro perché comunque Sims si era già fatto conoscere nella prima uscita e niente, ci eravamo preparati in modo da contenerlo, ma abbiamo fatto un po' di fatica nei primi 20 minuti, abbiamo dovuto aumentare un po' l'aggressività nei suoi confronti e fortunatamente questo ha pagato molto di più e nella seconda metà della partita è stato molto meno incisivo. Ricordiamoci che aveva fatto addirittura 10 punti nel primo quarto e nel secondo tempo invece ha raccolto veramente delle briciole. Secondo te a che punto siete del vostro processo di costruzione di squadra? Siamo ad un punto molto interessante, nel senso che comunque si lavora, si lavora tanto per provare ad ottenere dei risultati più che positivi già dall'inizio e non lo so, adesso ti dico la verità, penso che l'aspetto più importante è che ci ha dato maggiormente una mano in queste prime due partite, è stato il fatto che siamo riusciti a tenere gli avversari sotto i 60 punti, quindi penso che questo dato qui sicuramente può condizionare molto i risultati da qui alla fine dell'anno. Se riusciamo a mantenere questa costanza difensiva sicuramente sarà un vantaggio per noi, poi vediamo dove ci porterà. Qual è invece l'aspetto secondo te che dovete migliorare? Adesso su due partite che sono andate così bene... È un po' difficile. Lo so, però direi che andrebbe benissimo continuare. E' un po' in contraddizione con quello che ti ho detto all'inizio, che meglio di così non si poteva andare, però... No, 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 vabbè, no, no, da lavorare c'è sempre, ci saranno sempre tanti particolari da poter migliorare, però mi piace pensare che quello che si è visto in queste due partite continueremo a metterle in campo con la stessa intensità e con la stessa constanza, perché comunque, ti ripeto, questa attitudine difensiva e questi atteggiamenti in campo comunque è importante e ti dà una grossa mano. Quindi sicuramente continuare a mantenere questo. Poi aggiustare tanti altri dettagli per fare ancora più. E Luigi Sergio? Luigi Sergio provo a dare il suo contributo, sento quantissimamente a disposizione della squadra, provo a supportare anche dal punto di vista morale, mentale, tutti i compagni e ovviamente a fare del suo meglio come tutti. Cosa possiamo pretendere in più da Luigi Sergio? Da Luigi Sergio? No, non lo so, io penso che queste prime uccide siano andate abbastanza bene, quindi anche perché con questi risultati, spero non ci serva niente di più, ma basterebbe continuare su questo onda, sinceramente. Quindi continuare così come stiamo andando, puntare a quello che è l'obiettivo, che è comunque salvarsi, e niente, poi dopo si vedrà. Ecco, ho tirato fuori un discorso che io affronto spesso con il vostro allenatore, io sono sempre abbastanza contrario da alzare continuamente l'asticella. Secondo me, mantenere fisso l'obiettivo della salvezza, cercando poi giornata per giornata di ottenere il massimo e il meglio, penso che sia la cosa migliore per questa squadra. Sei d'accordo? Sì, sicuramente. Alla fine non si deve mai dimenticare da dove si parte, si deve restare con i piedi ben piantati per terra. Comunque sì, sono arrivate due partite importanti, due partite che ci mettono entusiasmo, e spero che trasmettano tanto entusiasmo alla piazza e ai rifosi, però due partite sono una parte troppo piccola di un campionato, quindi al momento restano solo due partite, quindi restare lì con l'idea fissa, quello che era l'obiettivo iniziale, poi si vedrà. Adesso avete anche voi tre turni in rapida successione, sabato sera in casa con Legnano, ed è un'altra, possiamo dire, una gara importante di quelle che era sulla carta una delle rivali nella lotta per la salvezza, diciamolo senza fare tanti giri di parole. Poi c'è il derby, che è una partita che avevamo già parlato prima con Andrea Pecchia, che è una partita a sé stante, e poi andate a Biella, Biella che abbiamo già visto in amichevole qua a Bergamo, e mi rifiuto di pensare che fosse quello che abbiamo visto, se sei d'accordo. Guarda, scusami se ti prego, però poi dopo abbiamo Agrigento in casa. Ah, scusami Agrigento, Biella è una... Mi sono confuso, scusa. Tra parentesi, se non ricordo male, mi sono confuso, io chiedo, faccio immediatamente Venia, andate a Agrigento, giocate in casa con Agrigento, e sarà lunedì sera, possiamo darvi in anticipo, perché per problemi di disponibilità del palazzetto, giocherete il lunedì sera. Esattamente, ma partiamo dalla partita di sabato, che sicuramente è una partita molto delegata, e come hai anticipato tu, sicuramente è uno di quegli scontri che vale un pochettino in più per quello che riguarda la corsa alla salvezza, e sinceramente comunque sarebbe un peccato comunque andare a sciupare quello che abbiamo fatto di buono nelle prime due partite, quindi spero che comunque riusciremo a ripeterci, insomma, come ti ho detto prima, anche nella prossima carica con Legnano. Poi il derby ovviamente è partita a sé, perché poi le emozioni sono differenti e tutte le carte in tavola. E poi tanti anni che non c'è, quindi c'è una certa attesa. Scurami, lo chiedevo prima ad Andrea, la percepite anche voi una certa attesa? Sì, diciamo che io quando sono arrivato l'anno scorso, comunque la rivalità che si sentiva, il fatto di essere in due gironi separati, comunque allentava molto la tensione di questa cosa. Adesso sinceramente io penso che tutti l'aspettino tanto questa partita, quindi sicuramente ha un'importanza particolare per la piazza. Comunque alla fine si darà tutto, anche in quel caso, e poi vediamo cosa ci dice il campo. Oppure stanno scorrendo le immagini nella partita che stavano scorrendo soprattutto i due contropiedi che secondo me nel terzo quarto hanno un po' aperto il gap, il primo solo sul recupero di Taylor, il secondo con Taylor e Roderick che hanno spinto il contropiede 2 contro 1 a canestro. Giocate molto più velocemente dell'anno scorso, o sbaglio? Ma, vabbè, diciamo che l'anno scorso io comunque lo dividerei in due parti, però comunque la seconda parte mi era passata abbastanza positiva. Comunque è un segnale... Sottolineerei quella abbastanza, visto che quella abbastanza è stata tolta soltanto da quella sconfitta in casa con la fortitudo, e ricordiamo ancora quel tecnico che aveva fatto girare la partita nel supplementare, penso che lo ricorderai bene anche tu, ti era rimasto abbastanza dubbioso. Abbastanza bene, abbastanza bene, lo ricordo. No, però sicuramente, come hai detto tu, è stata una delle chiavi della partita, ma lo è stato perché è segnale di un'attitudine difensiva e di un'intensità che poi ti permette di andare dall'altro lato e rubare qualche canestro un po' più semplice. quindi alla fine la chiave penso sia nell'atteggiamento della squadra in questo momento, che è un atteggiamento molto propositivo e dove tutti si danno il 100% in campo e questo poi adesso ci sta dando risultati. Bene, grazie Luigi, in bocca al lupo per il proseguio, l'appuntamento vi ricordiamo questa volta correttamente, quindi sabato sera 20.30 al Pallarastelli contro Legnano, poi l'infrasettimanale, il derby alle ore 21 di giovedì al Pallafacchetti contro la Remer, e poi si ritorna in casa, questa volta però in un giornata strana, però purtroppo è così quest'anno, quindi lunedì sera, se non ricordo male, alle 20.30 in casa con la portitura del dirigente, giusto? Giustissimo. Grazie Luigi, alla prossima. Grazie a tutti, buon proseguo per il lupo. Grazie. Torniamo in studio. Ti aspettavi questo 2-0 di Berlino? Sinceramente? Sinceramente no. Visto anche le due squadre che andate a affrontare. Scafati, non è proprio il posto più semplice del mondo dove andare a giocare. E Roma per come si era costruita. Con un certo tipo di nome, diciamo pure. Sì, sì, un roster importante. Un roster importante, che purtroppo domenica non abbiamo potuto, perlomeno, non ha messo in campo il peso che aveva, sinceramente, nelle nostre attese, perché tolto il Sims del primo tempo e qualche folata di baldasso, poi sinceramente è rimasta in valia di Bergamo per tutta la ripresa. Non si può fare un commento diverso. Siamo così in chiusura della seconda parte della nostra trasmissione, diamo quindi la linea alla regia per la pausa pubblicitaria. A parte della nostra trasmissione iniziamo con una nota negativa, vado a dire dalla A2 femminile della fascicola del base albino che parte 0-3 dopo la sconfitta iniziale all'overtime di un punto a Marghera, è arrivata la sconfitta in casa con Udine e poi sabato sera la sconfitta a Moncalieri, momento sicuramente non facile per la formazione allenata da Giuliano Stibiel che ha ancora un po' di infortunate, erano ancora Out, Moro e Panseri, Bombecchio che era della partita ma come si suol dire a me che è mezzo servizio, ma soprattutto, ed è un po' quello che avevamo già accennato prima nei top and flop, non si può prescindere a questo momento da una straniera che gli fa 1 su 10 dal campo e 5 perse. Quindi speriamo adesso che arrivi la prima, arriva con sabato sera il turno casalingo contro il Sanga Milano, una squadra che dovrebbe essere al livello delle seriane e ci auguriamo quindi che per le bianco-rosse albinesi arrivino finalmente il momento per cancellare lo 0 dalla classifica. In Serie C gold invece, terza vittoria in quattro giornate per l'Evoluto Romano Basket che si è giudicata la sfida casalinga contro la G. Bertina Sorresina, mentre dall'altra parte l'XXL Bluorobica Bergamo rimane al palo dopo aver sfiorato il successo casalingo contro il Cernusco, un Cernusco che era pieno di giocatori che sono ben conosciuti dalle nostre parti, ricordo tra gli altri Matteo Beretta, Guffanti e Sirtori che hanno tutti giocato in formazioni bergamasche. Abbiamo però in collegamento telefonico il vice allenatore dell'Evoluto Romano Basket, Riccardo Paris. Riccchi mi senti? Buongiorno, ti sento. Allora, ancora dei lei di bene, Villa ha fatto il suo, Sorresina è una squadra abbastanza strana con due centri, possiamo chiamarli due totem come Cazzaniga e Chiacic, però diciamo hanno preso un po' il termine più negativo del totem in questo caso, mentre non possiamo sottolineare che avevano due esterni sicuramente di qualità come lo sloveno Rolic e come il Sorbon. Però, malgrado tutto, siete sempre stati padroni nella gara. Sì, è stata una gara dove siamo riusciti a gestirla molto bene e soprattutto a contenere Rolic e del Sorbon, che sono i due pericoli numero uno della formazione della Gilbertina, anche perché sono due giocatori che sicuramente a zero non puoi tenere. Devi cercare di limitarli nelle loro conclusioni offensive, siamo riusciti a tenerli a punteggio basso rispetto alle ultime uscite che hanno fatto e grazie a delle grandi giocate difensive siamo riusciti a portare a casa anche questa partita. Abbiamo giocato bene, abbiamo recuperato anche giocatori come Ferri e Villa che nelle ultime partite avevano fatto poco dal punto di vista offensivo, sono tornati a segnare, quindi molto molto bene. Due particolari, Deleidi al di sopra degli standard dell'anno scorso, ne parlavamo anche in altra sede nei giorni scorsi, e l'infortunio di Mazzanti che però rischia di togliervi da una padina importante. Deleidi sicuramente questo inizio di stagione sta affrontando le gare con uno spirito diverso rispetto all'anno precedente e questo non è che non aspetto molto ma molto positivo soprattutto perché dà un ricambio in più nelle nostre rotazioni sta giocando anche come esterno visto lo stato di forma che ha in questo momento speriamo riesca a mantenere questo standard per tutto l'anno soprattutto in vista appunto dell'infortunio che è capitato a Mazzanti sabato sera. L'infortunio dove non sappiamo ancora l'entità della gravità dell'infortunio attenderemo fine settimana gli esiti della risonanza però non ci aspettiamo niente di positivo o di rassicurante visto che comunque è un giocatore che ha già avuto infortuni del genere entrambi le ginocchia vediamo i precedenti non sono confortanti esatto esatto prossimi appuntamenti vi aspetta una bella sfida sì andiamo a Piadena a cercare di di continuare il trend soprattutto dal punto di vista della prestazione che stiamo avendo in questo inizio campionato cioè se riusciamo a riproporre l'atteggiamento che abbiamo avuto contro le formazioni di Pizzighettone di Soresina di Gardone anche se poi abbiamo perso sul finale ecco diciamo che per fortuna a Gardone andate solo una volta all'anno esatto fortunatamente sì anche da tradizione voi anche per un certo tipo di arbitraggi che trovate sempre durante la traspetta trionplina per fortuna andate soltanto una volta sì fortunatamente andiamo sempre solo una volta non dobbiamo tornarci più durante il resto del campionato però lì è stata una gara che al di là dell'albitraggio e tutto delle situazioni abbiamo buttato via noi perché comunque l'ultimo quarto abbiamo avuto quei 6-7 minuti di di blackout a livello di gioco offensivo dove loro sono stati più furbi da un certo punto di vista e più bravi a sfruttare la situazione quindi siamo tornati rispetto all'anno scorso siamo tornati indietro tutti e 12 bene bene quindi appuntamento per voi a Piadena mentre l'XCL Blu Aerobica ospiterà Soresina ed è anche per loro c'è una partita importante dove dovranno mettere limitare i due esterni e cercare di far correre per non subire i due centri che Cazzaniga e Chiaci non possono sempre fare quello che abbiamo visto tra virgolette non fare nella gara di salotto sera al Palafacchetti e quindi puoi vedere lo sviluppo di questa stagione che comunque possiamo dire non si è messa male no esatto secondo me dal punto di vista delle formazioni di XXL e Soresina sono due formazioni agli antipodi nel senso che XXL è una squadra che gioca molto di ritmo Soresina è una squadra che deve essere molto più calcolatore in quello che viene fatto in campo soprattutto per giocare in 5 avendo due lunghi così pesanti così lenti nella transizione offensiva comunque devono vanno a una velocità inferiore quindi vista la bella prestazione che hanno fatto contro Cernusco secondo me possono ripetersi anche contro la Gilbertina e giocarsi grazie Ricky alla prossima grazie a voi ciao torniamo in studio facciamo una breve scursus prima di arrivare al nostro ultimo ospite abbiamo detto in Serie C il bel successo Casalingo nel Graal Dalmine trascinato da Fale Iabichella nel derby contro la Virtus Gorle poi c'è stata la sconfitta abbastanza inspiegabile per certi versi per come è maturata dopo un ottimo primo quarto 17-26 la Persico Stampi Seriana Basket magari una buona prova di Silva 21 punti è scivolata man mano dall'altra parte poi ricordiamo un'altra Bottanucco ha vinto abbastanza agevolmente molto di più di quanto non lasci trasferire risultato finale contro Casal Maggiore mentre nel girone B ricordiamo che rimane al paro la Virtus Isola Terno ha perso 4-3-6-8 contro la Dipo di Mercati mostrando ancora di avere bisogno di adattarsi alla nuova categoria ricordiamo che la Virtus Isola Bergamo gioca una squadra completamente completamente under proseguiamo poi con gli altri campionati andiamo alla Serie D primo derby che possiamo tenere in considerazione è stata la sconfitta netta e casalinga della giovane completamente under centro basket alto subino costa volpino contro la Red Cat device la torre partita a senso unico poi dobbiamo però sottolineare altri risultati importanti i successi esterni della scuola basket Treviglio una cosa importante un tempo di pescate andando a supplementare ma recuperando dal meno 15 se non ricordo male a 7 minuti dalla fine poi è arrivato al successo casalingo anche questo dopo una partenza lenta delle Cersio Bergamo in casa con Romagnate altro successo quello del gruppo basket colonial al serio nel derby esterno con la matricola Ingro Germonbrini Caravaggio mentre non ce l'ha fatta il basket Verdello ancora privo di Gualandris ma in occasione privo anche di Arsuffi che ha dovuto arrendersi 6-7-7-0 con quella che probabilmente era favorita numero uno del girone A della serie D maschile regionale vale a dire il Mandello in promozione siamo arrivati al terzo turno e il risultato del match club della settimana ha visto la polisportiva Brembate solo per vincere con l'Azzanese ed era un po' quello che era lo scontro al vertice tra le due favorite tra le principali favorite del girone A andiamo invece per quanto riguarda la femminile non è riuscita a bissare il successo casalingo di sette giorni prima il Don Colleoni purtroppo l'uscita per una forte distorsione alla caviglia di Maria Lacotelli ha compromesso l'andamento della gara casalinga con Villa Santa dove c'è Ivan Penna come allenatore e Jessica Penna come ala 4-1-4-5 il risultato in favore delle milanesi mentre in serie C hanno vinto tutte e due le nostre rappresentanti successo casalingo del Casigasa Parre sul borgo San Giovanni ma è l'affermazione abbastanza agevole del Visconti Brignano sul campo della Rezzato ieri sera ricordiamo Under 18 purtroppo delusione per quanto riguarda la Remer Bruorobica Bergamo nel derby contro la Nessa Brescia è arrivato un brutto risultato obiettivamente una sconfitta oltre quelle che potevano essere qualsiasi aspettativa serata no per i ragazzi di Zambelli hanno perso se non ricordo male 4-6-6-8 1-4-6-8-6-3 una roba del genere comunque abbastanza pesante per un gruppo che invece si sostiene sia abbastanza competitivo andiamo in chiusura con quello che è l'evento di settimana prossima lunedì prossimo ore 18 Teatro Manzoni a Milano il Galà del Basket Lombardo dove verranno premiate tutte tra virgolette le eccellenze della Palacanestro Lombarda abbiamo in collegamento telefonico il Presidente regionale Alberto Bellondi Alberto mi senti? Sì mi sento buongiorno a tutti buongiorno Germano e a tutti i risultatori Allora Alberto siamo ormai a ridosso diamo in anticipo poi che saremo presenti cercheremo anche di fare un report il più possibile completo della manifestazione vuoi però introdurla a dire anche un po' chi ci sarà sappiamo che ci sarà il Presidente Petrucci però ci saranno anche altri personali vuoi darci un po' esatto una manifestazione fortemente da me voluta e anche il Consiglio ha apprezzato subito una volta uscita questa idea che è quella di rappresentare e di premiare tutte le società che hanno vinto nell'anno nella stagione precedente per cui diamo un riconoscimento che è una sorta di gagliardetto celebrativo della vincita da appendere in sede o da appendere in paletta chi ce l'ha dove attesta la vincita insomma ognuno la propria vincita ognuno il fatto che ha ha trionfato in quel campionato o in quel torneo la manifestazione a cui ci tengo perché poi è un'autocelebrazione di tutta questa nostra attività i personaggi presenti come hai già annunciato tu ci sarà la presenza del vicepresidente del segretario generale di meo sacchetti allenatore del nazionale che verrà a trovarci e altre sorprese adesso non voglio elencare tutte comunque la cosa fa lustro fa piacere oltre il gruppo di giornalisti oltre la vostra presenza fisica con le telecamere per cui immagino una serata simpatica e soprattutto una serata dove vi ripeto sembra un po' autocelebrativa ma mi sembra giusto ricordare tutto quello che è stato fatto e soprattutto voglio farlo diventare un appuntamento fisso annualmente farlo diventare un appuntamento per questa celebrazione ecco mi consentirai di sottolineare una cosa che la Lombardia è ben oltre un quarto del movimento nazionale sì l'hai sottolineato tu io da Presidente non voglio sempre ricordarlo perché se no sembra quasi ogni volta ogni tanto bisogna anche mettere sul piatto le cose è vero di far valere forse anche per questo che nel momento in cui facciamo qualcosa però la parte della federazione centrale c'è sempre una bella risposta nel senso che vedo che ci tengono a esserci perché anche loro probabilmente in cuor loro sanno che siamo una buona parte di questa federazione e fino adesso ce l'hanno fatto ce l'hanno fatto sentire non bisogna ricordarcelo solamente quando quando abbiamo bisogno o quando dobbiamo far valere alcuni diritti e mi sembra più che giusto bisogna ricordarcelo nel bene e nel male ecco diciamo così per far capire giusto comunque la realtà è questa la realtà è che siamo il 25% di tutto quello che è il movimento nazionale che non è poco e non è per niente poco certo non è affatto poco certo abbiamo detto ricordiamo ancora la location il teatro Manzoni il teatro Manzoni per cui una sorta di così di teatro simbolico di quello che è la città di Milano alle 18 alle 18 iniziamo iniziamo questa questa Kermes e così finiremo in serata cercando di far andare la maniera più più omogenea più liscia più simpatica possibile quello che sarà diciamo una maniera più leggera se mi consenti sì assolutamente sì ecco non è niente di di che se non un punto ricordare quello che abbiamo fatto ricordare anche qualcosa a livello di storia dopo vedrete non voglio svelarvi tutto però qualche sorpresina c'è e soprattutto magari qualche notizia sui programmi anche futuri che non guasta quindi ricordiamo appuntamento poi faremo un ampio reportage della della manifestazione certo lunedì 22 alle 18 grazie Alberto appunto grazie a voi grazie mille a presto torniamo in studio andiamo quindi in chiusura con prima il ringraziamento del boccalupo ad Andrea grazie attendiamo gli sviluppi delle prossime settimane speriamo sviluppi ampiamente positivi da tutti i punti di vista il ringraziamento naturalmente più grosso da voi che ci avete seguito la casa l'appuntamento la settimana prossima la comandazione lo so che diventa pedante però mi piace sempre farla seguite le nostre squadre soprattutto sui campi vedrete che avrete sempre modo di divertirvi grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti